25 26 settembre 2015 siamo venuti a farci una passeggiata in piazza d'armi ma cosa ci fa qui tutta questa gente alberta ciao tatiana benvenuta sei che anche tu qui a spima oggi spim sport benessere in movimento e che cos'è una manifestazione per la gente come potrei vedere abbiamo fatto tutto questo per portare i piccoli ragazzi bambini a giocare insieme a noi a capire quanto fa bene stare in mezzo agli altri in mezzo alla natura a mangiare in maniera sana e perché no a fare un po di yoga dimmi tetti azione ma io sono stato chiamato per il concetto del benessere la formula diciamo completa per star bene proprio alimentarsi bene fare attività fisica ma soprattutto controllare la mente quindi riuscire a ritrovare l'equilibrio la saggezza dentro di noi per poter gestire bene la nostra vita e la nostra mission è quella di poter infondere nella gente la cultura del benessere la cultura del dello star bene ma è il senso del benessere non solo a livello fisico ma anche a livello di una sana alimentazione palestre torino ha provveduto organizzare tutte le attività su palco oggi abbiamo avuto abbiamo avuto tanta affluenza gente di tutte le età devo dire e sono riusciti ad affrontare bene tutte le attività abbiamo voluto portare la nostra pista di pattinaggio poi abbiamo voluto mettere un po di porte per far giocare i bambini a calcio l'aria di tiro con l'arco anche per i bambini e abbiamo reso disponibile lo sport a tutti quelli che volevano praticarlo beh alberta direi che dopo questo giro esplorativo è giunto il momento di andare a provare assolutamente sì andiamo ciao 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 ciao